Pecco Bagnaia con la moto è un fenomeno, col pallone un po' meno. Ma è così che conoscerà un altro campione del mondo, Fabio Cannavaro. Non restare indietro, con Team Vision Calcio e Sport puoi avere Dazon con tutta la serie A-Team e Infinity Plus con la UEFA Champions League a 19,99€ al mese per tutto il 2023. E agosto lo offre Team. Vai su Team.it. Team, la forza delle connessioni.